Momenti di tensione. Ieri, nel corso del Consiglio Comunale a Pagani, gli operatori ecologici della Multiservice, confluiti nei mesi scorsi al Consorzio di Bacino Salerno 1, hanno protestato per il ritardo del pagamento degli stipendi, ma anche per la scarsa attenzione mostrata dai vertici del Consorzio nei loro confronti. Divise vecchie, mancato versamento del trattamento di fine rapporto, continui rinvii per il ticket della mensa. Quella di Pagani comunque è una situazione comune a diverse città che hanno aderito al Consorzio e causata dalla morosità delle stesse amministrazioni comunali. Il sindaco Salvatore Bottone ha dichiarato di essere al fianco dei lavoratori ed ha dato la sua disponibilità a versare nelle casse del Consorzio parte dei fondi che però non serviranno a risolvere la vicenda. Nei giorni scorsi un'altra protesta era andata in scena davanti al Palazzo Sant'Agostino e che ha visto protagonisti i lavoratori dei consorsi salernitani che dovrebbero entrare a far parte dell'organico della Ecoambiente, la società provinciale che prenderà il posto dei consorsi.